Una medaglia d'oro e una di bronzo per l'Associazione Sportiva Sakura di Sciacca all'Open di Malta 2023, evento di grande prestigio nel panorama del karate internazionale. Alla competizione, organizzata dalla sigla VKA, hanno preso parte oltre 700 atleti provenienti da 21 nazioni diverse. Il risodalizzo seccense era rappresentato da 7 atleti nella specialità del karate kumite, che per l'occasione sono stati seguiti dal maestro Giuseppe Giuffrida e dal coach Alessio Graffeo. Ottima performance per Laura Pumiglia, che vince le fasi eliminatorie e la finale, aggiudicandosi le medaglie d'oro nella categoria cadetti fino a cintura blu e open di peso. Medaglia di bronzo per Sergio Bono, che nella categoria signores fino a 76 kg, dopo aver superato brillantemente le fasi eliminatorie, si ferma in semifinale contro il gallese Lewis Callum. Niente da fare invece per Samuele Allegro, Virginia Bono ed Emanuele Giuffrida, che dopo aver sumerato alcune fasi eliminatorie, si fermano prima della semifinale. Sfortunata la prova, infine, di Antonino Inzerillo e Sebastia Antornetta, che pur essendo in vantaggio perdono per squalifica al primo incontro. I ragazzi hanno un po' pagato la mancanza di esperienza in campo internazionale. Nonostante ciò, siamo molto soddisfatti perché abbiamo dimostrato di poter essere tecnicamente competitivi anche in una gara di grande prestigio come l'Open di Malta, ha commentato il tecnico Andrea Giuffrida.